Pensavate non passassi per farvi gli auguri di Natale? Già mai! Ciao a tutti e bentrovati sul canale! Auguri, auguri a tutti! Buon Natale amiche e amici miei! Auguri di vero cuore! Ho fatto già gli auguri lungo e largo sulle pagine Facebook, su 2Q1K, su Arte per Te, insomma, gli auguri vi sono arrivati! Però lo sapete, io ogni anno ci tengo a bussare alle vostre porte e a dirvi Buon Natale di persona! E quindi eccomi qua per dirvi auguri, Buon Natale, che sia un Natale sereno e felice per tutti, veramente per tutti, 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 tutti! In questo tutti racchiudo anche chi non è cristiano, perché che sia un giorno bello, ecco, per tutti voi! Auguri di vero cuore, che il mio affetto vi arrivi pesante, proprio vi avvolga e vi investa con tanta energia positiva! Quindi tanti auguri! E per farvi investire ancora di più da questa energia positiva, Buon Natale ha lasciato dei regali sotto il mio albero per voi che devo darvi necessariamente! Questo è un giveaway lampo, si apre oggi 25 di dicembre e si chiude domani a mezzanotte del 26 di dicembre, cosicché io possa darvi subito questi doni! Sorteggerò, dopodiché vi contatterò subito sotto i vostri commenti, sotto i commenti che avranno vinto e vi dirò Ehi, hai vinto tu! Ehi, hai vinto tu! E vi spedirò i regali! Poi il sorteggio, che comunque farò in chiaro, lo caricherò più avanti, però intanto, siccome sono molti i regali prettamente per questo periodo, sarò contenta di farveli avere nel più breve tempo possibile! Per partecipare a questo giveaway bisogna essere iscritti necessariamente al canale Ombretta, Due Cuore e Una K e al canale Arte per Te! Questi tre canali, poi, se siete iscritti anche ad Instagram, non è che a me dispiace, eh! Mi fate un grande, grande favore, perché lì potete rimanere sempre aggiornati su quelle che sono le cose che nell'immediato mi accadono nella vita! Comunque, decidete voi! L'importante è essere iscritti ai tre canali YouTube! Sono tutte cose che mi sono arrivate dalle aziende in tempi passati, le avete già viste passare dal canale, ora mi fermo e le regalo proprio a voi! Sono cose che mi ha mandato il sito C&Direct e, naturalmente, il sito Puro Bio! Vi ricordate questa scatolona immensa che vi ho fatto vedere qualche tempo fa? Bene, l'ho aperta proprio per voi! Saranno in quattro a vincere questo giveaway e poi io imbusterò casualmente, non c'è un primo classificato, un secondo classificato, perché i premi si equivalgono tutti come prezzo! E allora, un sorteggio avrà come dono! Questo bellissimo, questo è veramente bello, questo bellissimo maglione adatto, adatto per questo periodo di feste, però è anche bello per l'inverno, non è detto che debba essere solo natalizio, e quindi questo qui, molto molto bello, è la scatolina Puro Bio che ho scelto per accompagnare questo dono, contiene un lipstick Puro Bio ed è il numero 02, che è un bellissimo nude, devo dire il mio preferito, è la matita numero 08, anche questa un bel nude, non ve la swatcho, perché già gli swatch li avete visti nel video dedicato, che vi leggo tra le schede informative, e poi, perché appunto, siccome i premi si equivalgono, è inutile stare a far vedere l'uno piuttosto che l'altro, sono doni, quello che porta Babbo Natale arriva! Un altro sorteggiato riceverà invece, della Puro Bio, una bella matita rosso numero 04, il colore è questo qua, è il lipstick 07, che è appunto il rosso, molto belli questi rossetti, ho avuto modo di provarli in questi mesi, sono veramente fantastici, le matite le conoscevo già, i rossetti naturalmente non li conoscevo, perché sono una nuova uscita, e sono strepitosi, confortevoli come un burro cacao, ma tenaci come un rossetto, saputi mettere, sono fantastici, una bella felpazza rosso natale, è blu e bianca, molto molto bella, in un materiale molto tecnico, non ha il bel cappuccio, ha il cappuccio, diciamo che potrete passare in casa, ma anche per uscire carina, dei periodi di feste molto molto caratteristici, il premio numero 3 è un premio che piace anche agli amici di arte per te, vi ricordate quell'alzatina per reggere i pennelli, trovate tutto qua nel video dedicati, insomma questa è un'alzatina che si compone così, qua c'è il piedestallo, diciamo che va infilzato lei, e qua dentro si mettono i pennelli, quindi potrete usarlo sia per le vostre tavole creative, che è per le vostre, per i vostri beauty table, vanity table, come si chiamano, insomma per le tolettine, per reggere i pennelli, pennelloni, quelli ovali, oppure i pennelli da pittura, ci vanno entrambi e sono carinissime e comodissime, voi la vedrete di questo colore cartonato perché è imballato, ma poi questi sono degli stickers che si spiccicano e l'oggettino è in plexiglass trasparente, insieme a questo vi arriva questo, che è una combo fantastica, una bellissima matita nera di Puro Bio, una matita per gli occhi stupenda, ce l'ho pure io, è fantastica, ed il nuovo mascara della Puro Bio, questo io non l'ho ancora provato, si chiama LEM LASH, LEM LASH, ed il packaging è molto molto accattivante, quindi proviamolo e vedremo com'è, ultimo dono, è ancora qui confezionata, comunque l'avete vista, è una bellissima collana, apro, adattissima anche per la notte di Capodanno, la faccio vedere su sfondo rosso, guardate cos'è questa collana, è stupenda, wow, una cascata di gemme preziose, con un tubino nero, una bella scollatura, questa ci sta pazzesca, e allora questa è per voi, questa ce l'ho anche io uguale, e insieme a lei arriva questa scatolina, che contiene, bellissimo questo duo, perché un po' comprende dell'uno e dell'altro, comprende un bel rosso, numero 07 della Puro Bio, un lipstick, ed il mascara, quindi potrete provare sia i prodotti labbra che i prodotti occhi, mi raccomando, il giveaway scade domani notte a mezzanotte, un giorno, un giorno per lasciare dei belli auguri qua sotto, non solo a me, lasciateveli anche tra di voi gli auguri, io poi dopo domani sorteggerò, e vi farò sapere in tempi veramente stretti, chi è il vincitore, e così siete stati anche sotto il mio albero a ricevere i regali, Babbo Natale ne ha lasciati tanti, e sono contentissima di darveli, ragazzi che dire, continuate a festeggiare, con questa incursione volevo soltanto salutarvi, sentirmi un po' più parte delle vostre vite, e dirvi Buon Natale, e vi voglio un mondo, un mondo di bene, sappiatelo, indipendentemente dai regali, anche se non avessi avuto nulla da offrirvi, oggi sarei stata qui ad offrirvi il mio affetto sincero, quindi Buon Natale a tutti, festeggiate e siate felici, e un bacio a tutti i bimbi, ciao, Buon Natale!